La sconfitta di Prato contro i Bulzi in casa Fuzz al San Giovannese ha portato a mente fredda meno danni rispetto agli attesi dato che oltre all'ovvio sorpasso dei lanieri in classifica Pistoia ha comunque pagato Lazio con il Leonardo Cagliari e quindi gli azzurri rimangono al quinto posto con la consapevolezza che forse potrebbe essere proprio lo scontro diretto con gli arancioni dell'11 marzo a decidere l'inserimento o meno dei ragazzi allenati da Toria tra le prime cinque. Aspettando l'impegno interno infatti con il fanalino di Coda Cuspisa di sabato prossimo l'unico vero pericolo può essere rappresentato da un calo di concentrazione ricordando anche la vittoria per 4-1 all'andata in trasferta sotto la torre pendente con Leonardo praticamente già in a due, Ossi e Bagnolo ai playoff la corsa a quattro per due posti passa però proprio dal non compere passi falsi aspettando che almeno un pari classifica incappi in una giornata storta. Attenzione in questo senso alla trasferta col Tiguglio proprio dei Bulls e all'impegno di Pistoia dove arriverà Ossi nel questo turno.